aria che c'è qua bello a tutti dal vostro gabbo man siamo tornati su pes 2016 perché oggi è giovedì la konami ovviamente ha effettuato l'aggiornamento della settimana aggiornamento per modo di dir ragazzi perché comunque sia hanno per fortuna lasciato gli agenti della champions ma hanno tolto quelli del classico perché perché è finito non c'è sta più hai giocato quindi visto che ho riaccumulato qualche bel gp oggi anziché tre pescatozze come faccio sempre il giovedì ce ne facciamo cinque comincerei immediatamente dalla prima perché io sono alla ricerca dei cavani De Bale De Benzema sono alla ricerca dei tutti praticamente eccolo qua le palle girano come al solito le palle mi cominciano a girare a me come al solito perché la prima pescata è un pallone oro ma voglio sapere questo chi cazzo è questo è il buon samaritano del benfica è incredibile l'ho beccato io greco 26 anni 189 lo manno avanti subito perché oggi guarda se io non pesco un top player de quelli esagerati me comincio a cazzà scrivo una lettera in giapponese alla konami le vaffanculo però è quindi manteniamo la calma aggiungiamolo ai membri my club perché vado subito con la seconda pescata del giorno eccolo pago immediatamente confermo sto aspettà un top player me lo dovete da per forza cioè ma quanti giocatori pippe me sono rimasti da pescare con sta gente non è possibile non è possibile io me incazzo guarda oggi succede il macello oggi succede il macello quest'altro chi cazzo è questo è arnold del wolfsburg che comunque va a aver 21 anni 79 è tantissimo porca puttana un 84 giocatore chiave e va bene me tengo pure questo ovviamente non svincolo nessuno perché se li caccio questi ritornano aggiungiamo pure lui ai membri my club e andiamo con la terza pescata del giorno perché oh comincia a ritornare il 60% del pallone nero quindi se spera che il primo nero che trovo è un fenomeno di quelli esagerati mannaggia la puttana guarda oggi scoppia la bomba scoppia la bomba se non pesco cavani ecco non è possibile tre palloni oro di fila ma lo sculo capo do cazzo è finito e quest'altro è thomas io mi sono rotto li coglioni cioè non è possibile 85 84 82 aggiungo ai membri my club ma se continua così oggi ragazzi in se pesca nero 60,7 di probabilità pago ancora con gp alla velocità della luce ma che cazzo state a combinarla in giappone io questo voglio sapere guarda che succede mo eh guarda non è possibile non è possibile hanno truccato le palle hanno truccato i coglioni hanno truccato tutto guarda quest'altro quattro pescate de fila quattro palloni de merda de fila me se sta a tappar la vena ragazzi me se sta a tappar la vena io non so più quello che devo fa e questo pure è andato vabbè comunque sia sì l'ho pescati mo rimangono la e va bene però io me chiedo e ve domando ma pure voi state a pesca tutti sti cazzo de palloni oro o so solo io punto de domanda famose la quinta pescata del giorno e poi se fermamo qua perché ovviamente i gp me li tengo anche per rinnovare qualche contratto perché me servono allora schiaccio un'altra volta oh se becco 5 oro de fila penso che non sia mai successo nella storia dei gabbo man no vabbè ok questo è pallone nero ma tante corsette ne le fa vaffanculo le corsette non le fa questo è zero trickers sto testa de cazzo che avevo cacciato per pescare cristiano ronaldo oggi guarda è andata una merda che più merda non se può questo comunque è ottimo perché l'avevo provato e anche se è solo 80 comunque c'ha ottima velocità ottimo dribbling eppure la finalizzazione non è che ce fa schifo eh comunque sia ovviamente questo adesso non lo caccio più a meno che il real madrid non esce dalla champions league allora è un altro paio di mani che può essere pure comando via quindi senza che vi faccio rivedere statistiche le cose guardatevele da soli perché tanto vi sarete rotti li coglioni pure di vederle se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace commentate fatemi sapere voi che avete pescato mannaggia quel porco perché se mi dite che avete pescato pure voi sto schifo guarda organizziamo un pullman andiamo in giappone gli tiro la merda sulle vetrate guarda sto troppo incazzato condividete iscrivetevi al canale detto questo non mi resta che dava appuntamento alla prossima sempre con un nuovo video di PES 2016 e il gabone vi saluta bella a tutti regà ciao